E adesso cambiamo argomento, raccolta differenziata e riciclo creativo nelle scuole. Questo è il progetto portato avanti dalla frappè animazione con il supporto dell'amministrazione comunale di Alcamo. Io ho pescato questo che secondo me è un contenitore di plastica, ma non è la carta. Non è la carta? Non è la carta! Non è la carta! Non è la carta! Grazie al comune di Alcamo che ci sta aiutando tantissimo a passare questo messaggio ai bimbi. Stiamo andando in tutte le scuole di Alcamo proprio per fare questo progetto sulla raccolta differenziata, ma soprattutto sul riciclo creativo. Speriamo di sensibilizzare più bimbi possibile in modo tale così da poter aiutare la nostra cittadinanza a fare bene la raccolta differenziata, ma soprattutto a riciclare gli oggetti. Come coinvolgete i bambini? Sicuramente con il gioco. Loro con questo sono strafelici e noi più felici di loro, ma soprattutto abbiamo studiato dei giochi ad hoc per capire come si fa bene la raccolta differenziata. Tra l'altro pure li facciamo pescare, proprio abbiamo una piscina piena di rifiuti dove loro devono pescare quello che è il rifiuto giusto. Dove va messo? Dove va messo nel contenitore corretto ovviamente. Il comune di Alcamo sensibile a questa iniziativa in un periodo dove la raccolta differenziata è fondamentale? Sì, fondamentale perché proprio in questo periodo in cui c'è una difficoltà di smaltimento dei rifiuti in tutta la Sicilia abbiamo bisogno che tutti i nostri cittadini collaborino e lo stanno facendo e per questo li ringrazio. Ovviamente noi vogliamo coltivare nuovi cittadini ricicloni, quindi siamo contenti di aver sposato questa iniziativa con i nostri bimbi che spesso ne sanno anche più di noi, però vogliamo ancora di più esortarli e invitarli a differenziare e riciclare. Poi chiaramente il messaggio da lanciare ancora di più è quello di produrre ancora meno rifiuti. Questa è la cosa più importante che credo loro, che saranno le nuove generazioni, devono ben metabolizzare. Si insegna il riciclo ai bambini ma i bambini poi aiutano i genitori? Sì, sicuramente, infatti l'importanza di questo progetto è appunto perché i bambini sono una spinta fondamentale per la nostra società e per le famiglie perché aiutano fin da piccoli i genitori a differenziare meglio, magari anche alle nonne che a volte non sanno bene dove conferire rifiuti, quindi partendo dai giovani si arriva sicuramente alle famiglie. Volevamo poi invitarvi a conclusione di questo bellissimo progetto con la festa di primavera che faremo il 10 maggio presso Piazza della Repubblica e inviteremo tutte le scuole di Alcamo insieme proprio al nostro comune. Lì pianteremo tutti quelli che sono gli alberi, dei pianti, fiori ma soprattutto saranno coinvolti i bimbi dalla nostra bellissima animazione.